Dagli esordi in Francia alla Juventus, passando per il Marsiglia. Marley Aquet, esterno dalla Juventus Under-23, nelle 5 curiosità di Juventus News 24. In terra francese. Aquet nasce nel 2001 a Béziers, nel sud della Francia. Inizia a giocare nell'Agatoua, dai 6 agli 11 anni. Primo trampolino di lancio per il Montpellier. Tre anni di crescita che lo portano a trasferirsi nel 2015 nel club del suo paese d'origine. Il Béziers, a 17 anni poi, la chiamata del Marsiglia. Al velo Drom. Aquet viene inizialmente aggregato nel Marsiglia B, dove colleziona 30 presenze e 7 gol da centrocampista. Nella stagione successiva, 2019-2020, Aquet taglia anche il traguardo dell'esordio in prima squadra. È il 29 settembre e Marsiglia-Ren finisce 1-1. L'annata successiva, Villas-Boas gli dà sempre più continuità, portandolo addirittura a giocare 4 partite in Champions League. La Juventus. Nel gennaio 2021 è la Juventus a posare gli occhi su di lui, portandolo in Under-23, con Franco Tonghia a compiere il percorso inverso direzione Marsiglia. Perché scegliere la Serie C a rivelarlo? È lo stesso Aquet. Avevo già esordito con il Marsiglia, ma le partite da titolare non erano molte e sapevo che avevo bisogno di crescere e andare in un posto con la cultura del lavoro. Giocare nella Juve è una grande opportunità per me. L'ampi di classe. A confermare la personalità e il talento del Classe 2001, è una giocata diventata subito virale, relativa ad un amichevole del luglio 2020, tra il Marsiglia e il Bayern Monaco. Contro Neuer, Lewandowski e compagni, l'esterno si mette in proprio. Salta il primo avversario, dribbling bruciante anche sul secondo, sterzata a liberarsi del terzo marcatore. Tutto in pochi attimi. Quel lampo di genio lascia ancora tutti incantati. Dirigenza stregata. In un'intervista a Juventus TV, Giovanni Manna, Under 23 manager nella stagione 2020-2021, rivela il retroscena del colpo a che. È stata davvero un'opportunità. Un giocatore con caratteristiche tecniche importanti. Rapido, veloce, che attacca la profondità. Manna, insomma, lo definisce un giocatore di grande prospettiva e con un entusiasmo incredibile. Marley Ake, rapidità, tecnica ed utilità. Diteci con un commento cosa ne pensate dell'esterno della Juventus e iscrivetevi al canale.